Parliamo della partita adesso con Alex Guerci. Alex, una bella partita del Pergo, soprattutto nel secondo tempo però. Sì, sapevamo che loro sarebbero partiti forti, come tutte le altre squadre d'altronde, giocando a Creme, in uno stadio che ha sempre fatto l'AC. Ma noi abbiamo fatto la nostra partita, sapevamo che partivano forti, quindi abbiamo aspettato un po' timorosi magari il primo tempo, ma poi col passare il tempo abbiamo preso fiducia e penso che il risultato sia più che legittimo. Cosa che non ha funzionato nella prima parte della gara, dove avete anche un po' subito il Darfo? No, bisogna considerare anche il valore dell'avversario, che è un'ottima squadra. Come ti ho detto, loro sono partiti molto aggressivi, noi avevamo un po' di timore magari a scoprirci inizialmente, quindi a parte dei grossi rischi, al di là di qualche palina attiva, non attraversa, ma ci può stare. Nel secondo tempo invece, bene, molto bene, avete concesso poco, nulla al Darfo, però avete anche sbagliato qualche contropiede, si poteva chiudere la prima? Sì, no, abbiamo discusso a fine primo tempo con l'allenatore quelle due cose che non andavano, abbiamo risolto e i risultati ci sono visti. Poi è normale, quando ti capita una tante occasioni, è meglio concretizzarle prima possibile, non a 92esimo. E adesso, in classifica, anche la Caronesi ha vinto, non cambia nulla o cambia qualcosa? Ma no, cosa deve cambiare? Siamo alla sesta giornata, ce ne sono 30, aiutami tu, no? E passa. E quindi non c'è problema, noi facciamo la corsa su noi stessi, poi quando mancheranno qualche due o tre giornate alla fine guarderemo chi c'è davanti. Oh, ok. No, non c'è vakuto? No, non c'è Benjamin? ?